Allora nascono i comuni, nei comuni ci sono sostanzialmente quattro tipologie di persone, i magnati, i nobili, proprietari terrieri, la ricca borghesia, quindi il popolo grasso, la piccola borghesia, gli artigiani, il popolo minuto e i lavoratori aggiornata, cioè gli operai. Il clero è una rappresentanza molto forte perché la città era la sede del vescovo e poi ci sono gli marginali, i poveri, i mendicanti e i malati. All'interno della città l'organizzazione politica si trasforma, i rappresentanti dell'alta borghesia si uniscono in associazioni mediante un giuramento collettivo definito coniurazio. Le istituzioni autonome, le leggi e le possibilità di conere monete proprio rendevano il comune simile a uno stato, ma il potere proveniva dal basso, quindi non dal re o dal capo, ma dal basso. Invece il potere imperiale o il papato venivano chiaramente dall'alto. Le istituzioni comunali si diffondono soprattutto nel centro nord dell'Italia e nel nord Europa. Le città estendono il loro potere sulle campagne circostanti e diventano sempre più forti, per esempio Milano che diventa sempre più forte su tutta l'area Lombarda. Dopo la conioriazio vengono eletti i consoli, spesso due ma volte più di due, che hanno la funzione di amministrare la giustizia, il fisco e qualche potere militare e diplomatica. La loro carica dura un anno. Un'assemblea popolare che esercita la funzione legislativa viene chiamata Consiglio ed era eletta tra le famiglie più ricche o comunque più influenti della città. E poi c'era l'Arengo, da cui deriva Arengario, non so se vi viene in mente questa cosa, che era l'assemblea della totalità dei cittadini. Ogni comune ha un suo statuto, il comune passa dalla fase podestarile, quindi i consoli vengono sostituiti con i podestà, che vengono chiamati dall'esterno e non dall'interno, quindi dal basso, per garantire imparzialità e derimere controverse tra le fazioni cittadine, sei mesi e un anno anche loro, comunque il popolo non si sente tutelato da questi podestà e quindi ricorre alla costituzione di associazioni con un rappresentante chiamato capitano del popolo. Ok, quindi molto spesso c'è il popolo contro i nobili. Le città assumono sempre più caratteristiche ben definite, anche dal punto di vista architettonico, quindi strade con bottega artigiane, palazzo del comune, con una piazza dove il popolo si potrebbe radunarsi, cattedrali, perché cattedrali? Perché il vescovo si può sedere sulla cattedra, il seggio vescovile quindi, stile molto spesso romanico e gotico e diciamo che la bellezza architettonica faceva vedere il prestigio della città, ok? Quindi questo era tutto, noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione, se volete approfondire di più, parlare di un argomento specifico fatemi sapere, scrivete qua sotto e niente, ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione. Ciao!